qui c'è il tavolo con Marco della Tommasina come va Marco? è grande lo più successo del WPT vuole tornare inizio un bel torneo, un gran bel torneo, 400 persone è vero, un torno internazionale, è bello, è piacere come sai degli scandinavi al tavolo, aggressivi si, si, ci stiamo divertendo, sportellate, mi piace, mi piace bocca al lupo Marco grazie, ciao, vissi, vissi